Ho vissuto molto e ora credo di aver trovato cosa occorre per essere felice. Una vita tranquilla, appartata in campagna, con la possibilità di essere utile alle persone che si lasciano aiutare e che non sono abituato a ricevere. E' un lavoro che si spera possa essere in una qualche utilità. E poi riposo, natura, libri, musica, amore per il prossimo. Questa è la mia idea di felicità. E poi, al di sopra di tutto, tu per compagna e dei figli forse. Cosa può desiderare di più un cuore di un uomo?